Sono Tommaso Valtteri, Ministro Generale della Fondazione Isaia Pepillo, una fondazione costituita l'anno scorso per valorizzare a 160 gradi tutti i saperi presenti sul territorio campano. Siamo entrati in Assifero perché abbiamo conosciuto questa realtà dalla stampa e anche le altre persone che ci hanno parlato bene per l'impegno di un'associazione che lavora concretamente per i propri soci, verificando tutte quelle che sono le loro esigenze, le loro esperienze, permettendo anche di creare un network da di loro. Quindi a dicembre siamo entrati in Assifero, stiamo partecipando alle prime attività e siamo contenti perché tutto quello che c'è stato detto di positivo lo stiamo riscontrando nella realizzazione.